Oggi ho voglia di pizza, quella buona! Allora andiamo al Tourlé a fare il giro pizza! Il giro pizza! Certo! Con soli 12 euro, mangi tutta la pizza che vuoi, inclusa una bevanda o una birra media. Ti offrono il caffè e hanno anche un'area gioco per bambini. Fantastico! Ma dove? Trovi tutte le pizzerie Tourlé sul sito www.tourlé.it E giovedì 3 dicembre alle ore 19 vieni a mangiare gratis all'inaugurazione del Tourlé di Pavia via Partigiani 78. Trova la pizzeria Tourlé più vicina a te sul sito tourlé.it Grazie a tutti!